Come sono i problemi fondamentali? Si guardavano esenzialmente diversi aspetti. Intanto si partiva da una tipologia costruttiva che era una tipologia costruttiva assolutamente non prevista per le costruzioni in zona sismica e da qui anche una delle ragioni per le quali si sono avuti tanti danni. Per cui dover intervenire ha avuto qualche necessità e qualche problema in più. Un fatto che comunque si riscontra tutte le volte che si deve intervenire su una costruzione è quello fondamentale di avere disponibilità di documentazione. Cioè capire il fabbricato, quando è stato realizzato, come è stato realizzato, quali erano le tecniche costruttive del momento e poi i materiali con i quali la costruzione è stata realizzata. Perché ovviamente questi cambiano da periodo a periodo costruttivo, non solo, ma abbiamo anche differenti tipologie costruttive, muratura, cemento armato, strutture che hanno un carattere storico, artistico. Anche queste sono tutte tipologie che presentano una grande varietà di materiali, una grande varietà di costruzioni. Quindi i problemi sono innanzitutto relativi alla conoscenza della costruzione, cioè come è realizzata questa costruzione, quali sono le sue forme, quali sono i suoi materiali, quali sono le sue tipologie costruttive. Dopodiché il passaggio successivo è consistito ovviamente nel rilievo dei danni che la costruzione ha subito. E anche l'analisi del rilievo diventa uno dei caratteri fondamentali, perché tramite l'analisi del rilievo dei danni subiti si può andare a valutare qual è stato il comportamento della struttura, e quindi quali sono i suoi punti deboli, quali sono le sue carenze fondamentali, sia in termini di disposizioni costruttive, che peraltro non erano tali per essere previsti in zona sismica, sia in termini di comportamento dei materiali. Fatte queste analisi, queste indagini, che sono degli elementi preliminari necessari, non sempre fattibili, perché come si può ben immaginare per tante costruzioni non c'è documentazione tecnica, perché sono fabbricati vecchi, realizzati diciamo oltre 50 anni fa, quindi non c'è documentazione neanche negli uffici pubblici, perché allora ancora questo non era previsto, a maggior ragione per gli edifici, ad esempio per le chiese, per gli edifici storici e monumentali. Quindi occorre una prima analisi di rilievo dello stato di fatto. Dopodiché si tratta di decidere quale è il tipo di intervento che è più favorevole per la tipologia costruttiva che si sta considerando, perché la singola costruzione è un'entità a sé e ognuno va studiato per conto proprio, quindi bisogna andare a valutare qual è la soluzione più opportuna e non ci sono soluzioni identiche per tutte le tipologie costruttive, ma bisogna in un qualche modo cercare quella che è la più adatta per la tipologia costruttiva. Questo vale sia per gli edifici di civile abitazione, ma vale anche per i capannoni industriali, che sappiamo in questa fase hanno avuto notevolissimi danni. Il fatto fondamentale è che anche, ad esempio, e questo credo che sia dominio pubblico, le diverse tipologie di capannoni sono talmente ampie che ognuna richiede uno studio a sé stante, in quanto proprio anche le tecniche costruttive si sono modificate nel tempo. Per cui le difficoltà maggiori è quella di valutare quella che è la situazione attuale e calarsi nella situazione di progetto per andare a trovare qual è la soluzione migliore. E questo deve, in qualche modo, essere guidato da delle conoscenze specifiche sul comportamento delle strutture per le azioni sismiche. Questo è un apprendimento che non risponde solo e semplicemente a un'indicazione di norma. Le norme sono utili, le norme sono fondamentali, sono uno strumento importante, ma non si può pensare di pensare a un progetto solo come un'applicazione di norma. Occorre avere un'intuizione, una valutazione di carattere ingegneristico che ci permette di individuare quale sarà il futuro comportamento della struttura per un altro evento dello stesso tipo, per poi andare a caratterizzare l'intervento stesso. E questa è una delle difficoltà maggiori, cioè avere esperienza di quello che è successo, ora e anche in altre situazioni, e avere, diciamo, la capacità di poter progettare. E progettare non vuol dire semplicemente seguire una norma, ma vuol dire capire quello che è il comportamento della struttura. E questa è una delle difficoltà maggiori che è connessa con questo tipo di intervento. Certo che oggi le tecniche sono tantissime, sono le più varie. Alcune tecniche, diciamo, si prefiggono gli stessi obiettivi, ma con degli strumenti molto diversi. Quindi anche la scelta della tecnica costruttiva, del tipo di intervento, anche questo fa parte della cultura del progetto, che deve essere sempre più approfondita, tenendo conto anche del fatto che sappiamo bene l'Italia ormai è tutta zona sismica, e quindi purtroppo di questi eventi ne dovremo ancora sentir parlare. Bene, sì, dopo questi eventi, ovviamente che cosa hanno portato questi eventi? Hanno apportato anche da parte delle professionisti una necessità di approfondimento dello studio delle costruzioni e lo studio dei tipi di intervento. Quindi, laddove si interverrà, senz'altro avremo un insieme di costruzioni più sicure. Teniamo conto che oggi, come si diceva prima, tutto il territorio nazionale è diventato zona sismica, per cui le costruzioni nuove in sé sono già protette. Quelle invece esistenti avranno bisogno, in futuro, di ulteriori interventi, che in questo momento la norma non chiede, nel momento in cui non ci sono stati danni, ma che, senz'altro, possono essere delle prospettive utili sempre per migliorare le qualità del costruito del nostro territorio.